Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini, patriota, politico, nato a Genova nel 1805, dedicò la sua vita all'unità d'Italia. Pensava che i moti liberali del 1820 e 1821 e del 1830 e 1831 fossero falliti poiché gli insorti non avevano coinvolto il popolo che era costituito sia da benestanti e persone istruite ma soprattutto da masse popolari. Il motore delle rivoluzioni. L'obiettivo era quello di scacciare dall'Italia l'Austria con una insurrezione nazionale. Giuseppe Mazzini da giovane era iscritto alla carboneria ma a causa di una mancanza di progetto unitario perché la carboneria aveva progetti solo per alcune regioni e a causa dell'eccessiva segretezza degli obiettivi la abbandonò e così Giuseppe Mazzini che aveva un progetto nazionale nel 1831 fondò a Marsiglia in cui era in esilio una associazione, la Giovine Italia. La Giovine Italia aveva come obiettivo il risorgimento della patria e cioè il risveglio, il ritorno a un passato eroico. La Giovine Italia attraverso volantini e giornali diffuse il proprio programma politico che consisteva in tre punti fondamentalmente e cioè l'Italia doveva essere repubblicana per garantire uguaglianza tra i cittadini. L'Italia doveva essere indipendente dal dominio straniero e infine l'Italia doveva essere unita. Con l'unione fa la forza. La Giovine Italia attraverso gli iscritti si diffuse ma vennero raggiunti borghesi, nobili, operai, artigiani ma non contadini poiché i contadini erano analfabeti però costituivano gran parte della popolazione italiana e così Mazzini non ebbe l'appoggio popolare. Quindi i moti mazziniani del 1833 e del 1834 furono subito scoperti e repressi. Nel 1844 i fratelli Bandiera, Emilio e Attilio, ufficiali della Marina Austriaca, iscritti alla Giovine Italia, sbarcarono in Calabria per sollevare il popolo contro i Borboni. Ma gli abitanti li scambiarono per briganti e furono fucilati.